allora Chiara c'è, Andrea c'è, Flavio, Flavio, ferma, ferma, ferma tutto, ferma tutto cosa succede? abbiamo un problema, magari avessimo un problema, non c'è niente da ridere è un problema enorme, cioè? praticamente Babbo Natale con tutta questa confusione delle aperture, delle chiusure e non riesce detto a portare i regali di Natale quest'anno, beh non è possibile, allora faccio parlare tu, eh sì è Natale è intrattabile in questo periodo, non so fa qualcosa, trova una soluzione, no? ecco la soluzione, ma cos'è? è un drone per portare i regali, no scusa eh, cioè vedi? è un drone, lo vedi? ecco, secondo te questa è la soluzione? è potentissima sì ho già capito, devo fare come al solito tutto io ecco, ecco, era una cosa così complicata, ci voleva tanto? ma insomma, ma uffa, cioè però così non è valido, e poi è giallo, lascia stare che quest'anno il giallo va meglio che il rosso, ok, adesso siccome qui faccio tutto io, tu adesso carichi i panchi e io vado a riposarmi perché me lo merito, ecco, io lo sapevo, sono sempre io quello che deve sgobbare, portare sempre tutti i pesi, vabbè, lo farò, al posto di Babbo Natale, lo farò grazie a tutti 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 grazie a tutti